Ragazzi, facciamo un video di pallone Sempre mi presento, sono Anthony Conca E mi presento, guardatemi, giochiamo a pallone Adesso facciamo il video di pallone Allora ragazzi, se per esempio una pasta di caccapelle Ve le mandano sotto Allora, cosa ne pensate voi delle video di pallone? Palleccio Il palleccio è una cosa fondamentale di pallone Ecco qua, facciata di caccapelle sotto la tuba Palleccio Ragazzi, cerchiamo di fare il video di pallone Palleccio Le cose non sono bene oggi Non mi posta la foto Palleccio Palleccio Ma perché le cose come se fosse ambientato in una zona Palleccio Stoppata No Non mi viene oggi Le cose hanno male I fiori catano E noi facciamo le conseguenze Ragazzi Il video di pallone Palleccio Palleccio Facciamo Tanti video di pallone Ma che cazzo Mi aiuta I fiuti domestici Dentro la maglia Cosa facciamo? Facciamo il palleccio Il primo video di pallone Cioè Il primo video di pallone Ecco qua Cosa E' l'aspettativa Che uno abbia Per fare il video di pallone Sapete? Cazzo è che va a bocca Ci sono Per fare il video di pallone Eh? Ci stiamo Palleccio Palleccio Tetto Tetto Scende Miracoloso tetto Che ho lanciato E ho fatto scendere la palla Palleccio Oh cazzo Ce l'ho tirata A vicino a tutti i tuoi E mo L'unica cosa Che non vorrei E Guardare Il nostro video di pallone Che non lo guardiamo solo io Lo guardano tutti Ragazzi Facendo Il video di pallone Palleccio Palleccio Grande Facendo Il video di pallone Sempre se Video di pallone Palleccio Ma guarda Le cose vanno sempre male Noi non le vogliamo far andare male Però Ci vanno male Palleccio Ma perché non mi riescono Cioè Dovrebbero riuscire Palleccio Palleccio Ecco Quello Che so fare io Sappono fare anche gli altri Palleccio Ma guarda un poco Ma guarda un poco Il palleggio Certe volte Le cose che mi vengono da su Palleccio Testa Presa Che miracolo Avete visto? Sono Più allenato Più allenato Nel gioco di pallone E quindi Facendo Diversi video Diremo che Il palleggio E' la cosa fondamentale del video Per non dire Che I palleggi Sono la cosa fondamentale del video A quanto pare Se non sbaglio Tutto Vada Per il perfetto Ecco qua L'ho mandata giù Ragazzi Poi Ne faremo uno di sera Con questa maglia qua Anche se il video E' spettacolare E' spettacolare